L'assassino della regina è ancora in giro. Hanno tutti paura. È un assassino. È un mostro. È perfetto. Ehi, boss. Chi sei? Mi chiamo Nimuna. La tua spalla è arrivata. Dove serve una spalla? A ogni cattivo serve una spalla. Non sono un cattivo, no! Il vero cattivo è ancora in giro e io ho bisogno di aiuto. Ci sto. Chi puoi ammazzare per primo? Cosa? Guarda, io posso aiutarti, ma promettemi che non svalvole. Perché dovrai fidarmi di te? Prometti! Lo prometto! Anche se vedi il corno? Corno! Prometti! Prometto, prometto, prometto che non svalvole. Questa è la parte in cui scappate. Sei una muta forma? Attacco mostro. Attacco mostro. Tu l'hai fatta apposta. Impari svelto, boss. Eccetera, eccetera, eccetera. Vinciamo. L'unico che può trovarmi sono io. Ambrosius mi crede davvero un assassino. Sei stato tradito da qualcuno di cui ti fidavi. Perché una volta che ti vedono come cattivo è quello che sei. Ci avrà visto? Sì. Perché te ne vai in giro con un mosso? Chiamarla così. Il mondo ti prende a calci a volte. Ma insieme possiamo restituirglielo. È intelligente, gentile e molto sofisticata. Quello ha fatto bebì nell'armatura. Bebì nell'armatura! Che sei, che sei, che sei, che sei, che sei. Oh, mi piace come si mettono le cose. Spacchiamo tutto. Metallo. Quando ti avremo scagionato sarà la tua spalla ufficiale per i secoli dei secoli. Non si fa marcia ieri. Puoi essere tu? Non ti seguo. Non ti seguo.